Sì, ho da piccola, sapevi già che volevi fare da grande? Come mai me lo chiedi, Sammy? Perché io ancora non riesco a decidermi. Hai l'imbarazzo della scelta? Ma sì, tipo vorrei essere uno chef, una star della tv, con le mie foto sui giornali. L'importante è fare sempre quello che ti dà gioia, Sammy. Ma è proprio questo il punto, ci sono così tante cose che mi piacciono. Adesso che ci penso? Forse ti posso presentare delle ragazze piccole piccole, ma che già sanno che cosa vogliono fare. Ti va di conoscerle? E me lo chiedi, andiamo! Ciao ragazzi, oggi faremo l'unboxing di quattro nuovi set LOL Surprise e conosceremo quattro simpatiche sorelline! Ciao! La prima serie di questi set l'avevamo già aperta in un altro video. Lo trovate qui sul nostro canale, ragazzi. Oggi apriremo la serie 2. Cominciamo! Sammy, quale scatola apriamo per prima? Oh, dai sempre a me le scelte più difficili. Va bene, vorrà dire che decido io. No, non se ne parla, scelgo io. Ecco, apriamo questa qui. Lo sapevo. Ok, hai scelto questa, vediamo chi c'è. Dentro troveremo almeno 10 sorprese. Stupendo! Dice qui che questa bambola ha deciso di fare un giro in macchina. Oh, beh, si vede che si intende di macchine e che le piace guidare. Mi sa, non ci resta che scoprirlo. Voilà! C'è una strada! Che bello, ogni set è pronto per giocarci, Sammy. Forza, si uva e con l'unboxing. Ma certo, sta calmo. In effetti anch'io non vedo l'ora di scoprire che cosa c'è dentro. Guarda quante bustine! Oh, forza, apri, apri! Aspetta, Sammy. Mettiamole un attimo da parte e guardiamo il panorama. Wow! Ci sono la stazione di servizio, il negozio e anche la caffetteria. Che figo! Forse ho capito dove sta andando la nostra piccola amica. Al Festival Rock! Eh già, bellissimo. Ma prima voglio scoprire tutte le altre bambole. Ragazzi, mettete un mi piace se siete d'accordo. Guardate qui. Questa bustina sembra la copertina di una rivista. Grand Girl, che bel nome! Sbrigati, così conoscerai la mia sorellina, Kendall. Infatti, tesoruccio. Eccola qui! Piacere e benvenuta! Sì, o starà morendo di freddo. Tieni, usa questo. Grazie, Sammy. Ragazzi, guardate. Il suo vestitino ha persino una macchia d'olio sopra. Beh, ma certo, se si intende di motori. Chissà, forse anch'io farò il meccanico. Guarda che altro ho trovato in queste bustine. La sua fascia per capelli. E dei mini stivaletti da lavoro. Oh, che carini. Posso aiutarti? Ti finisco di vestirla mentre tu apri le altre bustine. Ragazzi, chissà che cosa troveremo qui dentro. Ops, ho quasi rotto la busta. Wow! Ragazzi, guardate che macchinina! Le ruote girano per davvero. E lo sportello si apre. È fantastico! La targa dice weekend, cioè possiamo. Che bello! Sì, un'altra macchinina. Una altra, davvero! Ma è incredibile! Qui la targa dice do it, cioè fallo. Mettiamole insieme, così la bambolina Ken Do potrà girare in giro con le sue sorelline o i suoi animaletti. Si può fare! Facciamolo! Anzi, faccio io! Ah, Sammy proprio non riesce a trattenersi con tutte queste bustine. Ragazzi, guardate! Dati decorativi per la macchina. E anche un piccolo deodorante albre magique. Tio, facciamo salire la bambolina in macchina. Chissà come sarà carina! Ho trovato anche un cartone di latte nella confezione. Metti caso che a qualcuno venga fame, insomma. Tio, guarda, la bambolina è pronta! Giusto in tempo, grazie! Ma non è un amore. Ecco un sorso prima di mettersi in viaggio. No, no, no! Meglio? Quanto è carina! Bene, bene, piccola Ken Do. Fa buon viaggio, allora! E mi raccomando, divertiti! Forza, ragazze! La mia sorellina ha preso la scorciatoia! Muoviamoci! Pronti a conoscere la mia sorellina Bon Bon? Allora andiamo! Sì, sì! Adesso apriamo quest'altra scatola. Non sto nella pelle! Wow! È tutto così rosa! Sembra una specie di marciapiede lastricato. Non ci sarà mica uno stregone cattivo alla fine del sentiero, tipo mago di Oz, vero? Fatti coraggio, Sammy. Guarda qui, piuttosto. Wow! È una ruota panoramica! È un negozitto di souvenir! È la pizzeria! Hai visto? Apriamo anche queste bustine? Voilà! Ragazzi, guardate qui! Ci sono tre coni gelato piccoli piccoli! Qua dice che abbiamo fragola, menta e nocciola. Chissà che buoni! Su, ti prego, fammi aprire la busta più grande! Ecco ti accontentato, Sammy! Grazie! Io invece quale apro? Vediamo... Questa qui! Sembra che ci sia qualcosa di molto piccolo! Rollo di tamburi... Esci fuori, su! Wow! È un piccolo cucchiaino per il gelato! Lo adoro! Ho capito! Questa bambola ha scelto di dedicarsi al gelato! Sta attento, Sammy! Che cosa hai trovato nella tua bustina? Ma questo è un bellissimo chioschetto per gelati, giusto? Ragazzi, guardate qui! Si può anche aprire, non è fantastico? Mettiamo tutto qui! E vediamo che altro ci aspetta! Sammy, tu apri questi! Io penso a quest'altri! Ma che cos'è stato? È che ci sono così tanti accessori! Guarda ad esempio questa bottiglietta! Ma anche questo sgabellino è perfetto per il chiosco! Noi siamo pronti, però ancora non ho capito che cosa mi è piovuto in testa! Oh, Sammy, è un ombrellino! Lo mettiamo sopra il chiosco... Opla, è perfetto! Ragazzi, non le stanno benissimo questi occhiali! Ha pure i capelli e il vestito in tinta! Bonbon, mi raccomando, aspettami prima di mangiare il gelato! Sicuramente aspetterà la sua sorellona prima di cominciare! Ehi, venite con me nel backstage, dai! Ci siamo tutti! Andiamo! È un elegante tappeto pieno di cuscini comodi! E qui che cosa abbiamo? Ma dove sono tutte le bustine? Sammy? Non posso continuare senza! Sammy? Ti sei portato via tutte le bustine, vero? Volevi divertirti senza di me, signorino? Ma io non c'entro! Sono state loro a farti uno scherzetto! Ah sì? Allora devo scoprire chi è tra queste la colpevole, giusto? Magari è qui dentro che si nasconde, vero? Ed eccoti qui, monella! Ah, ma come posso arrabbiarmi? Sei così adorabile! Guardate! Ha persino una stella qui sulla guancia! Ehi, anche io sono adorabile! Non ti arrabbiare con me! Va bene, Sammy! Ragazzi, la vestiamo? E... Opla! Così va molto meglio! È davvero carina, ragazzi! Forza, con cui mi piace! Su! Adesso voglio proprio scoprire che altra sorpresa ci sarà qui! Su! Oh, wow! Ma guarda! Che bellissima toletta! Sembra quasi un castello! Chissà se questi cassettini si aprono! Sue, ho bisogno del tuo aiuto con qualcuna delle mie bustine! Oh, Sammy! Mi piace tutto tantissimo! Guarda questo mascara, ad esempio! È così! Minuscolo e realistico! Dai, Sue! Hai ancora un sacco di bustine da aprire! Forza! Infatti! Pronto a scoprire che cosa c'è qui? Prontissimo! Oh, ma che poltroncina comoda! Ed è così particolare! E qui abbiamo... Oh, ma è un mini biberon! Per la nostra mini bambola, ovviamente! Dai, dai, Sue! Esploriamo questo set e scopriamo il prossimo! Psst! Sammy, quanto vi manca ancora? Adesso chiedo! Grazie, mio eroe! Che c'è, Sammy? Altgirl mi ha chiesto se il concerto della sua sorellina sta per cominciare, Sue! Ah, il tempo stringe, vero? Allora ci vuole un po' di magia! E un piccolo tocco finale... Ecco! Ah, ma guarda qui! Qualcuno ha lasciato immondizia in giro! Non si fa! Hai ragione, Sammy! Capito, ragazzi? Mai lasciarla in giro neanche a un concerto! Diamo un'occhiata a questo stupendo set! Sue, hai capito! Tutti i set facevano parte di uno solo più grande! Erano tanti angoli diversi! Hai ragione! Adesso siamo pronti per il festival! Mi sa che nella busta più grande c'è proprio il palcoscenico! Forza, apriamola! E infatti è proprio lui! Vedete? Qui c'è un posticino speciale per la nostra bambola! E con tutti questi tappeti sarà un perfetto palcoscenico rock! Stupendo! Ho trovato anche un altro mini biberon! E anche un microfono da mettere sul palco! E un amplificatore con la chitarra elettrica già collegata! E non c'è concerto rock che si rispetti senza una chitarra! Molto bene! È il momento della verità! Rullo di tamburi! Signore e signori, diamo il benvenuto a Grunge Girl! Rock dalla testa ai piedi! E con quei capelli rosa mi ricorda qualcuno! Vero, Sammy? Conosciamola meglio prima che cominci il concerto, Sue! Forza! Wow, ragazzi! È stato un bellissimo unboxing! Davvero spettacolare! Sì, sì! Bellissimo! È tutto a tema festival rock! E queste ragazze mi hanno anche dato qualche nuova idea su che cosa voglio fare della mia vita! E adesso godiamoci il concerto, giusto, Sammy? Giusto! Ragazzi, a presto qui sul nostro canale! Ciao, ciao! Ciao a tutti! Vai! Scoteniamoci! Siete pronti! Siete pronti!